Oggi vi porto un'altra analisi di giocatori, ma un'analisi un po' a 360 gradi, infatti vi ho preparato una tier list delle icon, in particolare quelle baby, ma è chiaro che poi un icon è buono in una determinata versione, è buono anche nella mid e nella prime, tranne per alcuni casi. Visto che comunque con tutti questi swap, tutti questi pacchetti che stanno uscendo, nelle vostre squadre sono riversati un sacco di giocatori di questo tipo che volete cercare di inserire a tutti i costi, andiamo a vedere quali vale la pena realmente andare a inserire nelle vostre squadre e quali invece andare tranquillamente a bypassare. Ho preparato, se non erro, 5 categorie, top, buone, utilizzabili, pippe e super pippe, una cosa del genere, direi di passare subito sulla schermata e andare a vedere quelle che sono le top, quindi video abbastanza lunghetto, mettetevi comodi ragazzi. Eccoci dunque sulla schermata dove appunto ci attendono le top, come possiamo vedere insomma non ci sono grossissime sorprese, andiamo a parlare rapidamente di questi giocatori, abbiamo il buon Eusebio, chiaramente un giocatore che non scopriamo di certo oggi, 4 di skill e 5 di piede debole che probabilmente tornerà in meta dopo la patch che ammazzerà il doppio passo. Ovviamente questo può giocare sia da punta singola che da seconda punta, eviterei COS, COD o COC perché deve essere un giocatore che va servito all'interno dell'area di rigore e col quale andate a finalizzare l'azione. Altra carta ovviamente super super buona è il buon Cruif 5-5, questo ovviamente insomma rimane in questa categoria in quanto è un giocatore fenomenale, che io personalmente andrei ad utilizzare per lo più da COC, non da COS, non da COD e neanche da punta o da seconda punta, visto che pecca un po' in quella che è la potenza tiro, cosa che si va ad aggiustare solamente con la Prime e la Prime Moments, quindi il ruolo ideale per me per questo Cruif il COC. E proprio tra Cruif e la carta successiva che è Pelé, spesso e volentieri mi andate a fare dei confronti e il confronto viene vinto da Pelé proprio se invece volete andarla a utilizzare da punta, di fatti con il suo 4 di piede debole ma il 5 di skill è molto molto versatile e imprevedibile, agile, finalizza veramente bene, quindi per quanto riguarda il ruolo di centravanti Pelé è sicuramente consigliato. Un'altra carta molto molto valida che sapete io ho un affetto particolare è il buon Candy Dalglish, 4 di skill e 5 di piede debole, un giocatore che è un po' alla Beyheader diciamo, quindi quest'anno magari risente un po' la mancanza di ampiezza dei movimenti, soprattutto con i doppi passi in Scoop 2 eccetera, ma doppi passi verranno azzerati con la prossima patch, quindi magari questo Candy potrebbe ritornare un attimino, insomma, di tendenza. Tra le varie versioni, ovvero la Mid e la Prime, quella Baby è la migliore perché tra le tutte è la più agile e la più scattante, secondo me è anche quella che finalizza meglio, le ho provate tutte. Passiamo invece al reparto del centrocampo, rapidamente, dove abbiamo Vieira, ovviamente, insomma, non lo scopriamo certo oggi, un colosso del centrocampo, che quest'anno ha anche dei passaggi discreti rispetto agli altri anni, molto fisico, recupera tantissimi palloni, e io lo preferisco anche al buon Zidane, che sebbene è un 5-5 molto più completo, pericoloso anche in fase offensiva, chiaramente difende meno e ha meno fisicità, quindi in fase di recupero palla magari soffre un po' rispetto al buon Vieira. Altra carta super super vaida, ovviamente, è Garrincia, che può giocare benissimo sia da COS che da COD, volendo anche da COC, non andrei a utilizzarlo da punta né singola né in un'attacca a due, perché mi sembra un po' una forzatura, in quanto non è che finalizza proprio alla perfezione. Per quanto riguarda il buon Giorgio Migliore, anche lui, carta molto molto valida sull'esterno, anche qui COS, COD, SD, volendo anche il ruolo di COC, anche se magari pecca un po' nei passaggi, ma sicuramente non punta né punta in un'attacca a due, visto che comunque è un piccoletto. Altra carta molto interessante è il buon Alex del Piero, 4 di skill e 5 di piede debole, che va utilizzato, secondo me, da COC, molto molto valido. Altra carta incredibile è Blank, Blank Baby, da utilizzare CDC o CC4231442, CC in un rombo, con stile intesa ombra, che io ho utilizzato per tanto tempo, molto fisico, recupera palla, smista bene perché ha buoni piedi, quindi tanta roba. Altra cartina molto interessante è questo Essien, che è una sorta di via di mezzo tra un Viera e un Kanté, in quanto è un Kanté, praticamente, però Icon, un po' più rapido, ed è un Viera, ma meno fisico, quindi tanta roba anche per lui, anche qua CC o CDC ha ancora ombra per il buon Essien. Carlos Alberto è un'altra carta molto forte, perché diciamo che è un difensore simil Varane, quindi si va a inserire in quella categoria tra Varane, Gimenez, eccetera, eccetera, Joe Gomez If, Walker If, che abbiamo analizzato nel video sui difensori, e anche lui può tranquillamente dire la sua. Non mi piace l'idea di spostarlo terzino nelle vostre switchate epiche, mi piace DC. Desely è un altro giocatore incredibile, così come lo è Ferdinand, diciamo che le accorpiamo, sono entrambi due difensori molto rapidi, molto fisici, che vanno a far compagnia alla categoria che ho appena elencato. E un'altra carta sfiziosa è il buon Maldini, nella versione base 88, che può essere utilizzata sia da terzino, sia essere switchata DC con lo spostamento di un difensore centrale in posizione di terzino, magari si può fare lo switch, che ne so, con Walker, per dire, anche se quel Walker per me è un trattore da difensore centrale, come vi ho detto tantissime volte. Quindi per quanto riguarda la categoria delle top, che ovviamente è una categoria senza grosse sorprese, è più o meno tutto, e passiamo alla prossima. Qui c'è un grosso spoiler. Passiamo alla categoria delle buone. Categoria delle buone, quelle che, diciamo, possono tranquillamente dire la loro all'interno del gioco. Il primo è Ronaldo, nella sua versione Baby, che presenta dei problemi, in quanto non è 5-5, ma è 4-4, quindi diciamo che non ha nulla di più per dire di un Bappé, anzi, secondo me è più scarso di un Bappé, quindi diciamo è una sorta di dietro, va alla fine, quindi può fare tranquillamente la punta o la punta in un attacco a due, nel COS e nel COD, perché insomma non è che c'ha questa ampiezza nei movimenti, però la punta la può fare tranquillamente. Altra carta interessante è questo Kakà, che secondo me funziona veramente bene da COS, da COD o da SOID, quindi da esterno, così come funziona bene questo Kocha, molto sottovalutato, ma ha anche 5 stelle di skill ed è stato utilizzato anche da qualche pro. Vi devo dire che il suo lo fa, anche qui esterno, COS e COD, non tanto il COC, né tantomeno la punta, e sicuramente il buon JJ può avere la sua chance di giocarsi le sue carte. Stessa cosa per Gianfranco Zola, anche qui un giocatore molto interessante, che però andrei a utilizzare nella posizione di COC, non da punta né tantomeno da esterno, perché è molto piccolino. Stesso discorso, più o meno vale per Maradona, perché lo andrei a utilizzare anche qui da COC, anche se abbiamo il problema del treppiede debole, però comunque questo Maradona non è male, ovviamente, se vi esce non mi sembra il caso di farlo marcire in panchina, così come non mi sembra il caso di far marcire in panchina né Seedorf né Guardiola, che sono due ottimi centrocampisti, soprattutto Seedorf, perché ha sia una buona rapidità di gamba, sia un'ottima qualità e difende anche abbastanza bene, quindi diciamo che è una sorta di blanco un po' meno fisico e che difende lievemente peggio, però anche qui molto molto valido. Guardiola invece è lievemente più lentino, però difende un po' meglio, quindi anche qui il buon Guardiola non è male. Per quanto riguarda invece Campbell, Mataos e Cannavaro, parliamo di tre difensori centrali molto molto validi, anche qui veloci, Cannavaro magari un po' piccolino, quindi la sua presenza fisica carente rispetto ad altri un po' si fa sentire, però abbastanza valido anche lui. Mataos in particolare si può anche switchare a centrocampo e portare per esempio Chiellini-Frizzi in difesa, quindi duplice in questo caso la possibilità di sfruttare Mataos. Per quanto riguarda Zambrotta e Zanetti, anche qui abbiamo due terzini molto molto validi, sia il primo che il secondo, in particolare Zanetti secondo me può essere utilizzato anche da Mediano, qualora vogliate switcharlo con qualcuno, anche il buon Zambrotta col 5 di piede debole. E andiamo a chiudere la categoria delle buone con Van der Sar e Yashin, sapete che i portieri sono molto personali e insomma un portiere Icon va sempre provato, quindi se vi ci trovate, insomma perché non utilizzarli, soprattutto i portieri Icon vi danno la possibilità di poter ibridare al meglio magari le vostre difese. Passiamo avanti e abbiamo la categoria delle utilizzabili, quindi quelle che diciamo non sono né top né buonissime, che però se vi escono un tentativo potete darglielo. In particolare molto sottovalutate sono secondo me Crespo, Shevichenko e Bright, perché si tratta di carte che comunque hanno buone statistiche di piede debole e stelle skill, non sono neanche così piantate in quanto hanno buoni attributi di velocità, in particolare Crespo e Shevichenko ha avuto modo di provarli e finalizzano davvero bene, sono anche abbastanza agili, devo dire, si girano discretamente bene in game, quindi utilizzabilissime, così come è utilizzabile quello Stoichkov, può essere utilizzato anche in posizione di COS o di COD, non di COC, visto insomma il problema del piede debole, però anche Stoichkov un tentativo può sicuramente riceverlo. Un'altra carta molto valida è Butraghenio, col suo 5 di piede debole ma 3 di skill, che quest'anno lo porta un po' fuori meta, però è una sorta di Beyheader appunto con 3 di skill e non 4, che può essere divertente da utilizzare. Così come potete dare un tentativo anche a quel Nedved e a quell'Arry, in particolare in ruoli di fascia, Nedved ha anche 5 di piede debole, quindi si può provare anche COC, in particolare Arry invece è un giocatore che ha una buona prestanza fisica, quindi in particolare può essere utilizzato da esterno a guadagnare campo con i suoi movimenti molto molto ampi. E arriviamo adesso a due carte che secondo me vengono proprio, sono tra le peggiori a essere proprio sottovalutate, Agi e Nakata. Parliamo di due giocatori che hanno comunque 4-4, che hanno buoni parametri di velocità, buoni parametri di tiro, buoni parametri di passaggio, più o meno guardate le statistiche sono identici, Nakata magari ha un po' più di difesa, ma questi qua, la loro, secondo me possono tranquillamente dirla nel ruolo di COC, un po' arrangiati da COS o da COD, ma per me si possono provare. Non disdegnerei, non sono così delle lose giganti. Abbiamo poi il buon Figo, anche qui una carta discreta che si può utilizzare in fascia. E arriviamo alla nota dolente, voi mi direte, ma come Gullit Baby lo metti negli utilizzabili? Sì, perché Gullit Baby ha un body type totalmente differente dalle versioni del Gullit Mid o del Gullit Prime, che lo rendono secondo me normalissimo, ha un costo solitamente spropositato, qua parliamo comunque di una carta che vi siete ritrovati, però il discorso è bene che lo facciamo a 360 gradi, io non lo andrei a utilizzare più di tanto. Certo, vi ripeto, è utilizzabile, però non mi fa impazzire, visto che il problema della resistenza si sente tanto per una carta che deve rincorrere per 90 minuti o 120 minuti, che siano, quindi mi lascio un po' perplesso. Petit, anche un buon giocatore, un po' come Maldini lo potete switchare a DC, oppure lo potete switchare anche a Mediano. E un'altra carta sfiziosa può essere Stolaudrup, che tanto è bistrattato, ma che comunque è una carta 4-4, per cui un tentativo in posizione DC o C, o anche in fascia, Stolaudrup lo può avere. Passiamo infine alle ultime due categorie che prima vi avevo parzialmente spolerato, che sono quelle delle pippe e delle super pippe. Probabilmente ci saranno dei nomi illustri qua dentro che vi faranno saltare dalla sedia, ma per me sono carte che non possono circolare. Parliamo di Verón, che ha 70 di velocità, parliamo di Ronaldinho, che ha 80 di velocità, è sicuramente la versione più inutilizzabile tra tutte queste. Abbiamo Koeman, che ha 67 di velocità, Raul, che secondo me dal mid in poi si può utilizzare, ma la Baby è veramente un bidone. Abbiamo Baggio, che ha un body type ambiquissimo, e nonostante 90 i dribbling e buoni parametri di agilità, vi giuro che non si gira. Abbiamo Bobo Vieri, che insomma, per ridere, si commenta abbastanza da solo. Ma che lelele, che non è né carne né pesce. Drogba, anche qui, che è un giocatore al quale serve il tir prima di potergli fare dei movimentini in aria per liberarsi. Lampard, che insomma, in mezzo al campo non è che si faccia molto. Stessa cosa Gattuso, Raikard molto lento. Rui Costa, né carne né pesce. Il buon Socrates, che sono tre anni, che sembra sempre una carta incredibile, poi la vai a provare in game e non serve a niente. Gerrard, anche qui molto lento. Sanchez, con evidenti problemi, come il piede debole e la freddezza. Barnes, carta molto esotica, neanche troppo veloce, abbastanza inutilizzabile. Bergkamp, anche qui, che rispetto agli altri anni non è che mi dice granché, è il buon Angelo Biondo Hernández, che, insomma, seppure lo volete utilizzare sull'esterno non ha niente di più rispetto a un Lucas, per dirvi. Anzi, ha anche tre di piede debole. Passiamo alle super pippe, quelle che è proprio da scartare delle massive lose giganti. Baresi, che ha 70 di velocità da DC, Klose, che ha 77 di velocità da ATT e non si gira, Puyol da terzino destro con 76 di velocità, Treseghe, che anche qui abbiamo bisogno di Lagru per farlo girare, Kluivert, stessa cosa, Roy Keen, un centrocampista con 66 di velocità, Deko, un C.O.C. con 78, Nesta con 70 di velocità, Hierro con 75 di velocità, Inzaki con 74 di velocità, Giggs con 2 di piede debole, Paolo Scolastico con 68 di velocità, Enrici Larson, insomma, 3 di piede debole, Shearer con 76 di velocità, Rud van Nisterroi con 78 di velocità, Lehmann è un portiere, insomma, si potrebbe anche provare, ma così, Pires con 72 di velocità da C.O.C., Rivaldo con 2 di piede debole, Schmeichel anche qua, magari, Littmannen con 76 di velocità, Lineker con 84 di velocità, ma problemi di stelle skill e piede debole, Ballack con tronco con 72 di velocità, Bobby Moore 70 di velocità, E il Borrush con 3 di piede debole, Che va a far compagnia al Bon Giggs, Quando vedete la bandiera del Galles, E' una sentenza. Quindi, raga, Per quanto riguarda questa tier list, Fondamentalmente è tutto, Vi è sorto a lasciare un bel like, Un commento, Fatemi sapere voi che ne pensate, Se avete trovato delle icon di questo tipo, Se siete più o meno d'accordo con me, Ci tengo a precisare ancora una volta, Che ovviamente sono miei pareri personali, Non vi offendete se vi ho definito, Busta un'icona che avete del vostro pupillo, Però io mi baso un po' su quelle che sono le statistiche, E la loro funzionalità in game, Soprattutto dopo averle viste anni e anni e anni all'opera, Queste carte. E nulla, raga, Vi ricordo poi le info per quanto riguarda le live giornaliere, Sulla piattaforma viola, In descrizione, E a me non resta altro che salutarvi amici. Ciao, ciao! Ciao!